Due domande sul Messina. Intanto cinque risultati utili consecutivi, una squadra che sta andando forte e che ora sta effettivamente seguendo quelle che sono le indicazioni del blasone e della forza della società. Sì, sì, al di là del blasone e della forza della società che sicuramente farà la Lega Pro unica per mille motivi, una squadra che si è rafforzata tantissimo a giocatori di categoria superiore. Però andremo lì a fare la nostra gara e poi vediamo domenica, è uno scontro diretto perché la classifica dice che siamo a pari punti e cerchiamo di fare l'ennesima gara positiva. Corona, Bernardo, anche Costa Ferrera che sembra il giocatore in più, c'è un'attenzione particolare da dare a questo elemento? Sicuramente sì, Costa Ferrera non lo so come fa a giocare in questa categoria, sinceramente è di due categorie superiore. Però dovremmo giocarci contro e faremo di tutto per limitarli. L'ultima, il Chieti per la prima volta sotto la gestione dei Patri viene da una sconfitta, si aspetta una reazione anche dal punto di vista mentale, morale? Le reazioni ho già le ho viste domenica nel secondo tempo, molto positiva, al cospetto di Interamo che abbiamo giocato la pari contro la prima della classe, perché la classifica dice questo, è anche meritata la classifica del Teramo, quindi con me è così, hanno fatto sempre bene i ragazzi, ci sta a perdere col Teramo perché la classifica dice questo. Se c'è tutti questi punti più di noi vuol dire che c'è qualcosa in più, l'ha dimostrato e lo merita. Quindi ripartiamo dal secondo tempo di domenica scorsa sapendo che ci aspetta uno sconto diretto importantissimo. Because that's the video So So So